E ne abbiamo parlato in copertina nella nostra apertura con il monito del capo dello Stato, ieri 72esima giornata nazionale ANMIL per le vittime del lavoro a Silvi, la manifestazione abruzzete per chiedere prevenzione, controlli e una nuova cultura. Mariano D'Amico. Bisogna avere la forza di andare avanti perché quando ci si capita poi non si può fare altrimenti. Un incidente in itinere costringe Gino Pelusi da 30 anni a muoversi con una stampella. Pasquale Astolfi, travolto da un muletto, ha perso un piede. Trovo così da 4 anni e ancora non riesco, ancora con le stampelle, anche ha fatto la protesi ma non è che vada bene. Nanuccio Di Marco ha subito una menomazione ad un occhio per un infortunio in campagna quando aveva 20 anni. Oltre a la quotidianità fisica mi sono dovuto confrontare anche con la quotidianità psicologica, una realtà che non ci avrei mai assolutamente pensato. Storie di vita che hanno fatto da cornice alla 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Manifestazione regionale a Silvi, in un territorio, quello della provincia di Teramo, che nei primi 5 mesi dell'anno ha raddoppiato il numero degli infortuni rispetto a quelli dell'anno scorso. Nel Terramano anche le ultime due morti bianche della regione su 9 complessive nel 2022. Secondo un report elaborato dalla CGL Abruzzo e Molise, relativo al periodo gennaio-maggio, sono 7.628 gli incidenti segnalati, il 66% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Trasporto e immagazzinaggio i settori più colpiti, seguiti da quello delle costruzioni. Prevenzione, cultura e controlli, chiedono i lavoratori. Mi rivolgo a tutte le autorità competenti di andare a controllare i luoghi di lavoro perché è importante. Padri di famiglie che lasciano la pelle tutti i giorni senza riportare a mangiare a casa. Andremo nelle scuole e ce l'ha finanziata la regione Abruzzo a portare la testimonianza degli infortunati sul lavoro per far capire alle nuove generazioni cosa significa il mondo del lavoro e prepararli perché noi siamo rimasti indietro di 30 anni.